Dio non abbandona e prepara le nostre strade nonostante le debolezze umane, lo ha detto il Papa nell'Omelia. Ci sono peccatori e peccatrici, ma come ha fatto il Signore? Si è mischiato, ha corretto la strada, ha regolato le cose, pensiamo al grande Davide, un grande peccatore. E poi il grande santo, ma il Signore sa. Quando il Signore ci dice, con amore eterno io te ho amato, si riferisce a questo. Da tante generazioni il Signore ha pensato in noi, in ognuno di noi. Grazie.